Ciao ragazze e benvenute o bentornate nel canale e dopo il video recentissimo di Ycon torno con Kiko per recensirvi la loro collezione di San Valentino, ossia Sweet Affairs. Vi ho fatto il video di presentazione e ovviamente è immancabile nel mio canale anche quello successivo della recensione. Quindi vi dico in questo video cosa ne penso in definitiva di questa collezione. Detto ciò, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, lasciatemi dei like se vi va e se il video vi piace e giù nei commenti fatemi sapere se a voi la collezione è piaciuta e fatemi sapere i vostri top e flop della collezione. Detto ciò, let's go! Partiamo dallo scrub Questo è lo scrub che comunque la profumazione per quanto mi riguarda non è di cioccolato Non so, sa più di qualcosa di cotto, di bruciato Comunque mi aspettavo qualcosa di più da questo prodotto Non fa nulla, non scrappa bene, tant'è che aveva ancora le pellicine e le labbra secche È un prodotto che non vi consiglio di acquistare Ce l'ho, l'ho usato pochissimo come si può vedere perché comunque non mi piace Cercherò comunque di usarlo per terminarlo insomma Però non vi consiglio la spisa Passiamo al rossetto liquido 2 in 1 Io ho acquistato la colorazione 2 È un bel color caramello Non ve lo swatcho perché se non erro vi ho già swatchato tutti i prodotti nel video presentazione E comunque è un duo Da una parte c'è un rossetto matt e dall'altra un gloss Comunque dicevo, un bel color caramello caldo Formula fluida e sottile che rende questo prodotto abbastanza confortevole La durata è abbastanza buona Ma unica pecca è che non è del tutto non transfer Quindi si trasferisce Mentre il gloss è trasparente Da qui non sembra, sembra colorato Ma vi assicuro che praticamente è trasparente Lo avrei preferito con qualche glitterino Per dare ulteriore luminosità Ma questo è un gusto personale Nel complesso non è un gloss malvagio Non è molto appiccicoso Però a parer mio la combo insieme non funziona Perché il rossetto liquido Non essendo completamente non transfer E poi applicando il gloss al di sopra Tende a spostarsi maggiormente Nel complesso i prodotti sono buoni E mi sento di consigliarli Però io non li utilizzerò insieme Poi passiamo agli occhi Con appunto il duo occhi Eyeliner e matita Ho acquistato anche qui La colorazione 02 Nel colore verde bosco Eccolo qui Si presenta in questo modo Si intravede già il colore La matita è un grossissimo no Eccola qui Perché in quanto risulta un po' secca E poco scrivente Sia nella rima interna sia all'esterno Poi non si sfuma bene e fa macchia Quindi proprio questa Un grossissimo no Cioè vedete questo è il tratto che fa Molto molto blando Molto lieve Poco scrivente Mentre l'eyeliner E' fatto diciamo in filtro Eccolo qui E L'eyeliner è nero E ha la punta appunto in filtro E' molto sottile Permette di fare linee sottili E precise E ciò mi piace comunque In un eyeliner Si asciuga in fretta Ma non asciuga matt Però devo dire E' abbastanza scrivente Però Devo dire che con gli ombretti luminosi O glitter La situazione cambia Perché non essendo in setola La punta si sporca di glitter E di conseguenza Viene fuori poi Una riga di glitter Sporca Viene fuori una riga di eyeliner Sporca di glitter Quindi diciamo che Sui glitter Ombretti luminosi E' un eyeliner Che non mi piace Però poi messo da solo Risulta abbastanza Buono Poi passiamo All'unico prodotto viso Che ho acquistato Ed è il blush cotto duo Ho acquistato Stavolta la Colorazione 1 Che è quella più chiara Ecco qui il pack E' appunto La colorazione più chiara Perché la seconda Era veramente Decisamente Scuretta Per me Allora Devo dire che La parte chiara Che è quella Matte Risulta Molto 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 Chiara Anche su di me Che sono un fantasmino Quasi non si nota E' poco scrivente Tant'è che devo stratificare Più volte Mentre la parte Luminosa invece E' carina Ed è più scrivente Queste polveri Mi piace utilizzarle In combo La parte luminosa Dà un tocco di luce E cambia look Ad un blush Poco visibile Tant'è che Questa cialda Ammetto che E' la mia preferita Tra le due E Però Secondo me E' poco blush E' più illuminante Si può dire Che blush Perché è veramente Molto Luminosa E scrivente Se dovessi consigliarvi Però questo prodotto Sinceramente No Non vi consiglierei Comunque di spenderci 16 17 euro Se non erro Per un prodotto Che Poi Utilizzerete Sia e no Soltanto Una cialda Ma sempre Se vi piacciono I blush Luminosi Quindi per quanto Mi riguarda Sinceramente E' un prodotto Schippabile E' un ni E poi Recentemente Sono tornata Da Kiko In negozio Perché vi avevo detto Che avevo ricevuto Un buono Spendibile A fronte Di una spesa Di 20 euro E ho deciso Di prendere L'ombretto In crema E' vero Che vi avevo detto Anche della maschera Ero molto interessata Però Ci ho pensato Su Comunque Ho già una maschera Kiko In progetto Smaltimento L'avete vista In quel video Anzi Se ve lo siete persi Andatelo a vedere Che secondo me È interessante E quindi Di conseguenza Ho preso Un prodottino Nuovo Tra virgolette Anche se Ammetto Non sono una grandissima Fan degli ombretti In crema Però Mi sfiziava Tantissimo Questo colore Che vi avevo detto Lo 01 Si chiama Silvery Vibes Ed è quello Più luminoso Ma prima Vi mostro I prodottini Che ho acquistato Per accumulare I 20 euro Altrimenti Non potevo Utilizzare Il Il buono Allora Ho deciso Di prendere Una matita Occhi Di questa linea Intense Color Entrambi sono Della Linea base Di Kiko Nel colore 13 Che devo dire È un bellissimo Viola Ho già avuto modo Di provarla Infatti la punta È Già rovinata Molto Molto morbida Ha dei Micro glitter All'interno Non so se si possono Percepire È un bellissimo Viola E Devo dire Che già Mi sta piacendo E oltretutto Ho anche Lo sfumino E questo Non ricordo Quanto costa Però comunque Sul sito Ci sono Tutte le info E poi Volevo provare Un loro blush Sempre della linea Base Perché il pack Sono neri Questo è della linea Unlimited blush Nel colore 05 Che dice Un blush Da risultato Modulabile E a lunga durata E questo È il blush Decisamente Freddon Rosa Malva E quindi Dice di essere Modulabile E infatti Se lo stratificate Man mano Diventa Molto più Scrivente Questo ancora Non l'ho provato E Non vedo L'ora Ok vi ho mostrato Il mini acquisto Kiko Che appunto Ho preso A fronte Del buono E passiamo a noi Con appunto Questo ombrettino In crema Il pack Sempre Il solito Scusate Se vi acceco Il solito Satinato Con il tappo Nero All'interno Anche Una Spugnettina E questo È il colore Molto Bello Il luminoso Che appunto Tra tutte Mi ha entusiasmata Di più Già Dalla prima Volta Che vedi Questa Collezione In negozio E Il pack Praticamente Uguale A quello Della Sicilian Notes Adesso Ecco Vi mostro Vedete Allo stesso Praticamente Tupetto Solamente Che In quello Della Collezione Sicilian La scritta Anche È in oro Mentre Qui Abbiamo La scritta In nero Però Poi Per il resto Sono Praticamente Uguali E Questo È lo swatch Sulla mano Cioè Guardate Che luce Guardate Che Meraviglia La texture È fondente Sembra Quasi Di toccare Crema Aderisce Subito Alla Palpebra È una volta Settato Non si smuove Applicato Con le dita Risulta Più intenso E luminoso Le tonalità Uscite Sono tutte Metalliche Tranne Che per questo Che è decisamente Glitterato Come si può Ben vedere Non ha Un'altissima Concentrazione Di perle Tende a fare Fallout Per cui Attenzione Ma comunque Mi piace Perché è sottile E non fa strato Una cosa La devo dire Però Non so Se sia Una pecca Di questo Prodotto Però Quando Lo swatcho Sento Della formula A base D'acqua Come se fosse Proprio Bagnaticcio Ed è vero Che all'interno C'è una spugnettina Però Non vorrei Che il prodotto Seccasse facilmente Ma questo Si scoprirà Col tempo E forse Però Proprio per questo motivo Che hanno messo Una spugnetta Per far Insomma Non seccare Per non far seccare Il prodotto Comunque Spero vivamente Che non Si secchi subito Ragazze In definitiva Devo dire Che La parola D'ordine Di questa Collezione Non è La scrivenza Perché Comunque Ho notato Alcuni prodotti Come la matita Occhi Come il blush La parte Matte Sono veramente Poco Scriventi E bisogna fare Tantissime Tantissime Passate Di norma Kiko Fa sempre Dei prodotti Invece Molto scriventi Però Stavolta Non è stato Così La profumazione Anche Devo dire Che si poteva Fare di meglio Io sinceramente Sono Sarà che sono Abituata Insomma Ai prodotti Too Faced Quelli proprio Al cioccolato Che quelli Si Sono proprio Di cioccolato Mentre questi Decisamente No Sono Un Similare Ma non è cioccolato Niente Detto ciò Sicuramente I miei top Super top Che vi consiglio Di acquistare Di questa collezione Sono L'ombretto In crema E il duo Rossetto Liquido E gloss Fatemi sapere Invece I vostri Top E flop Di questa Collezione Se vi va Nei commenti Io vi mando Un grosso Baccio E ci vediamo Al prossimo Video Ciao Ciao